Siamo in Galdus. Galdus è un'organizzazione professionale che sviluppa professioni. Noi di Fede Professional abbiamo scelto loro come partner e siamo molto contenti di aver sviluppato un primo progetto di sviluppo di freelance professional. Il freelance professional è una figura di freelance che si prepara ad essere un professional sul mercato. Progetto sul compliance management, nuova professione emergente. Volevo chiedere al dottor Baldini che cosa ha raccolto da questa esperienza che abbiamo sviluppato insieme. Intanto vi ringrazio di questa possibilità che per noi è importante in quanto ci sembra perfettamente coerente col nostro modo di intendere il nostro modo di operare perché appunto ci occupiamo di formazione e di accompagnare le persone a un primo, a un nuovo ingresso nel mondo del lavoro. E questa esperienza formativa ma anche la rete di contatti che voi rappresentate per noi è stata fin da subito interessante e soprattutto appunto coerente con quelle che sono le nostre finalità. Cioè aiutare le persone ad entrare nel mondo del lavoro e le aziende a trovare le persone che cercano. Cosa vede nello sviluppo dei liberi professionisti oggi nel mercato del lavoro? Devo dire che è un'opportunità molto interessante sulla quale noi abbiamo lavorato e lavoriamo da tempo. Magari le prime uscite si preferirebbe il posto fisso. In realtà il mercato del lavoro, soprattutto milanese, chiede molto questo. Chiede questa apertura, questa disponibilità, questa flessibilità che sono tipiche della libera professione, della consulenza. Noi abbiamo in programma di proseguire questo impegno e soprattutto sviluppando la parte professionale dell'essere freelance. Questo sposa i progetti di Galdus in che minuto? Certamente sì. I nostri punti di contatto col mondo delle imprese a dell'ambito strettamente formativo, cioè i nostri centri per il lavoro, hanno quotidiane relazioni con le imprese e riceviamo dalle imprese questi segnali, tra gli altri, non unicamente, cioè che c'è bisogno di consulenti validi a cui far riferimento, da allargare se possibile la collaborazione sia in termini di contenuti formativi che di figure professionali magari da formare insieme e da proporre quindi poi al mercato. Bene, grazie a Claudio Bardini e grazie a Galdus che ci ha ospitato in questo processo. Ai prossimi progetti. Speriamo. Grazie. Grazie a voi.